82.000 casi. Tanti ne ha rilevati la John Hopkins University, in un rapporto che nel discorso pubblico ha ormai reso gli Stati Uniti il nuovo epicentro nell'epidemia globale di Covid-19. Una cifra ancora relativamente contenuta in realtà a fronte di una popolazione di oltre 300 milioni di persone, ma proprio per questo gli esperti avvisano. Se non vuole un'ecatombe in casa, Washington si muova in asprire le misure di distanziamento sociale. Secondo le ultime rilevazioni, il numero di casi a livello globale sarebbe ormai salito a 500.000, ma la disomogeneità nella misurazione tra paesi fa supporre che i contagiati possano essere molti di più. La metà dei defunti al momento arriva da Spagna a Italia, i paesi più colpiti in assoluto. Dopo Stati Uniti e Cina, c'è ancora l'Italia, al terzo posto per numero di infezioni. Difficile valutare se le rigide misure di confinamento decise dal governo Conte stiano già funzionando dopo l'ultimo rialzo nei contagi seguito a giorni di rallentamento. Molto brutte anche le cifre in arrivo dalla Spagna, che per nuovi decessi e nuovi casi ha ormai superato l'Italia, dove le misure restrittive restano comunque per ora molto più rigide. Il governo Sanchez è stato duramente criticato dopo aver ammesso che le migliaia di test a risposta rapida acquistati dalla Cina sono pienamente affidabili solo nel 30% dei casi. Dopo la Spagna è la Francia il paese europeo con il più alto numero di decessi. Nel paese il picco epidemico è atteso per il 5 aprile, dopodiché si spera che il numero di morti e infezioni inizi a calare. Il peggio sembra invece ormai alle spalle in Cina, dove Pechino ha comunque deciso di sigillare i confini a partire da sabato per evitare che i contagi di ritorno inneschino una nuova epidemia. Un provvedimento, questo, che rispecchia quello adottato a gennaio da Washington e che in futuro diverrà probabilmente sempre più frequente in tutto il mondo.